Ciao a tutti ragazzi, io sono Simone e bentornati sul mio canale! Oggi stiamo alla tua volta su Minecraft E come avete potuto aver letto dal titolo Oggi vi faccio vedere L'Europa Sì Ci ho messo la mattina di giorni Però ne vale veramente la pena Non so, è veramente tanto grande Sarà almeno 200 blocchi, dico Forse pure di più Vabbè Se avete una verifica Sull'Europa Io adesso vi dico I nomi degli stadi europei Ah, come ho detto il fatto del continente Non l'Unione Europea Ok, allora Vabbè c'è l'Italia, come si è venuti Qui c'è San Marino La Francia Questo è Monaco Questo piccolo qui Qui in mezzo c'è l'Andorra Mi sono scordato di fare Questa è la Spagna Portogallo La Svizzera Questo qui Questo è il Lienkstein Questa è l'Austria Questa è la Germania Quello lì è il Lussemburgo Questo è il Belgio Questo è i Paesi Bassi Qui c'è la Repubblica Scega La Polonia La Slovacchia Sì L'Ungheria L'Ucraina Che adesso In questo momento Ha qualche problema La Moldavia La Romania La Bulgaria La Grecia E la Turchia Che poi In realtà Ho appena scoperto Che questo Pezzo grande Non ci doveva essere Ma solamente questo qui Perché quel pezzo lì È europeo E questo No È asiatico Poi quella lì È la Georgia Quella è la Russia Questa è Cipro Cipro Vabbè Cipro Poi qui c'è la Grecia Poi Lì c'è Il Regno Unito La Danimarca Questa è l'Irlanda del Nord Va bene Lo stesso Questa è l'Irlanda L'Islanda Norvegia Svezia Finlandia Estonia Lituania Lettonia No No Estonia Lettonia Questa qui E Lituania Questa Azzurra qua Questa è Bielorussia Questo è È un Altro pezzo Della Russia Che però è rimasto Da quando si è staccata L'Unione Sovietica E Qui ci sono I paesi Balcanici Che sono La Slovenia A Croazia Bortena E Zegovina Questo è Montenegro Non si capirà mai nella vita Però va bene Albania Macedonia Nord Kosovo E la Serbia E Non è se mi scordano nulla Sì Ragazzi Che ne pensate Beh Calcolate ci ho messo una ventina di giorni A fuori tutto ciò Perché poi Ci sono sei giorni con cui Io non ci ho giocato Vabbè Lasciate sta Vabbè Lui ci dovrebbe essere Kazaki Stavano ha detto È asiatico Quindi no Non l'ho fatto più Vabbè Ragazzi Spero tanto che questo video E l'Europa Che ho fatto Vi siano piaciuti Mettete un like Iscrivetevi al mio canale Attivate la campanellina E noi ci vediamo in un altro video Ciao a tutti